Il centro Gas Gas di Fano di nuovo nel mirino dei Vandali. Con quella di ieri è già la terza incursione dopo quella delle scorse settimane, quella tra venerdì e sabato, mentre l'ultima la scorsa notte all'interno della struttura attrezzata per bambini dai 3 ai 10 anni che offre attività ludiche e creative e anche uno spazio dedicato alla condivisione tra genitori, all'incontro e alle relazioni. Situata sotto la scuola Nuti nel quartiere Poderino, questa mattina sopra il luogo dell'assessore Tinti che è andato a vedere nuovamente la situazione. Sono atti vandalici ma sono azioni davvero spregevoli perché tornare qui fa male al cuore vedere tutto in disordine, tutto buttato per aria. Purtroppo anche questa notte c'è stata un'incursione e queste azioni vanno davvero denunciate non solo alle autorità competenti e così abbiamo provveduto a fare con il commissariato di polizia che poi farà i necessari passi per cercare di perseguire questi reati, ma davvero anche all'opinione pubblica perché queste azioni sono contro uno spazio che è un simbolo, un simbolo per l'infanzia, per l'adolescenza e per il nostro territorio. Quindi per tutte le famiglie, soprattutto quelle famiglie vulnerabili che hanno davvero bisogno di spazi di aggregazioni per i loro figli. Come potete vedere da queste foto i vandali prima hanno forzato la porta d'ingresso e poi una volta entrati hanno rovesciato tutto ciò che hanno trovato nelle stanze, materassi per bambini, giochi, palline e infine come se non bastasse hanno fumato tranquillamente e preso il cibo destinato alla merenda per i più piccoli e lo hanno mangiato lasciando disordine e sporco ovunque. Fatti davvero inqualificabili, ma davvero io non la voglio ridurre perché potrebbe essere considerata una ragazzata, perché buttare per aria senza poi tra l'altro rubare nulla, ma rompere, lasciare tutto in giro. Però non va ridotta a una semplice ragazzata, ma davvero occorre da una parte un'azione repressiva, anche determinata, forte, ma dall'altra un'operazione invece di prevenzione, un'azione educativa. Faremo oltre ad adottare accorgimenti deterrenti anche d'accordo con i lavori pubblici per cercare di evitare in futuro ulteriori incursioni, faremo però anche un'azione di tipo di prevenzione e di educazione con l'animazione di strada. Con i nostri operatori e i nostri educatori faremo in modo che questo spazio sia visto per la funzione reale che ricopre e quindi frequentato anche dai ragazzi come abbiamo fatto per i giardini della Rocca. La struttura di proprietà dei servizi sociali del comune di Fano e gestita dalla Cosmarche rimarrà chiusa per consentire la pulizia e la sistemazione del disordine fino alla giornata di mercoledì 22 marzo. È davvero in questo contesto un luogo, uno spazio che bambini, bambini, ragazzi e ragazze davvero sentono proprio, sentono loro e quindi ecco sarebbe importante anche che altri e coloro che sono venuti con incursioni notturne in questo spazio si rendessero conto davvero con un'opera e accompagnandoli con percorsi di educazione davvero qual è l'importanza e la funzione fondamentale che ha questo spazio per la città.